Buonasera a tutti e un grande grazie all'assessore Chissini che ci accoglie sempre con molta ospitalità. Grazie al comune di Castagnato per aver rinnovato questa intesa, questa adesione convinta a questa diciassettesima edizione del Festival Filosofi Lungo L'Olio. Siamo molto contenti di tornare qui con un pensatore di purità che ringrazio di vero cuore, di poterci garantire la sua lezione anche in un momento, soprattutto in un momento molto difficile per il nostro paese, una giornata febbrile come quella che oggi ciascuno di noi sta vivendo. Ecco, avere la possibilità di ascoltare dalla viva voce il direttore del Censis, non solo quello che dirà evidentemente nella sua relazione, ma anche quello che ci dirà analizzando la nostra società, che conosce molto bene e che asculta di anno in anno, io credo sia un'opportunità molto importante che questa sera acquisisce un valore estremamente rilevante. E' semplicemente rilevante anche il fatto, solo due cose, poi passo subito la parola al professor Valeri, ma mi sembra importante notarlo, che oggi soltanto il 20% della popolazione del pianeta gode di una piena libertà. Eppure il numero dei paesi che arretrano il garantire il rispetto dei diritti civili e delle libertà politiche supera ogni anno il numero di quelli che avanzano. Quindi possiamo vivere senza libertà? Che cosa significa vivere senza libertà? Ci stanno illudendo di vivere, che stiamo vivendo in piena libertà, ma in realtà non stiamo esercitando più in fondo la nostra libertà? Oppure stiamo giocando con la nostra libertà? Oppure, come più volte è stato detto durante i festivali da tanti relatori, da tanti relatrici, questi io molteplici che abitano in ciascuno di noi e che soprattutto compongono la nostra società, molto spesso si dimenticano che laddove finisce la mia libertà inizia quella dell'altro. Io mi permetto soltanto di introdurre il professore facendogli questa grande domanda, libertà ma dalle sue parole sicuramente, c'è una libertà che chiama responsabilità e li ascolteremo con molto interesse. Il professore Valeri è laureato in filosofia all'Università degli Studi della Sapienza di Roma, è direttore, come già è stato detto, generale del Censis, il Centro Studi e Investimenti Sociali, dove svolge una costante e articolata attività di ricerca e consulenza nei diversi campi della realtà sociale. Il lavoro, il welfare, la sanità, il territorio, i soggetti economici, i media, la comunicazione, il governo pubblico, la sicurezza e la cittadinanza. È il curatore dell'annuale rapporto della situazione sociale del Paese, che dal 67 è considerato uno dei più qualificati e completi strumenti di interpretazione della realtà socio-economica italiana. Da queste ricerche Massimiliano Valeri ricostruisce in modo originale, straordinariamente unico, lo scenario sociale, con l'espressione, pensate, azzeccatissima, vorrei non lo fosse, ma è così, di società del rancore. È diventata una chiave di lettura ripresa da tutti i mezzi di informazione e penetrata potentemente nel dibattito pubblico. Massimiliano Valeri, siamo lieti di ricordarlo, è altresì membro del nostro comitato scientifico. Recentemente ha pubblicato i volumi che sono poi in vendita nella notte di un'epoca contro la società del rancore, i dati per capirla, le idee per curarla, il contagio del desiderio, le statistiche e filosofie per capire il nuovo disordine mondiale, le ciliegie di Hegel, appena uscito, da pochissimo uscito, una riflessione sull'idea di libertà. Io ringrazio il professore e voglio condividere con il professore e con il nostro pubblico e con tutti voi una cosa molto bella. Domani spegnerà 90 candeline il Presidente del Censis, il professor Di Rita, e allora idealmente gli facciamo un augurio straordinario e gli facciamo giungere un grande applauso. Grande ammirazione e gratitudine gli esprimiamo per quello che ha fatto per il nostro paese. Grazie a tutti e la parola al nostro illustre relatore. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza, grazie per la vostra talità, grazie Scano Dari, che è una donna che è un augurio straordinario e il suo impegno e il portare avanti ogni anno l'organizzazione di questo feste, e filosofi con l'olio ammirevole, straordinarie, le faccio ora i miei complimenti, perché guardate, se li merita tutti, ha una dolcezza e una determinazione veramente affascinante. Grazie quindi per avermi portato anche quest'anno al festio. La riflessione che vi propongo questa sera, il titolo che abbiamo dato, despote, filosofi, l'orghese, la libertà, si concentra su questo concetto, su libertà, evidentemente, che è un modo per, dal mio punto di vista, declinare il filo conduttore del fai quest'anno, questa espressione, questa formula è molto bella, dire io, dire io implica, presuppone la libertà, l'essere liberi per poterlo, quindi io mi concentrerò su una riflessione della libertà, perché tra l'altro credo sia una delle parole che abbiamo usato più frequentemente negli ultimi due anni e mezzo e mezzo, a cominciare dall'epidemia del Covid, se ci pensate bene, abbiamo a causa dell'emergenza sanitaria subito delle restrizioni, delle libertà personali che non avevano avuto precedenti nella nostra storia repubblicana. Le scuole interrotte, obblighi, divieti, il coprifuoco, veramente forme di coercizioni, di unitazione delle libertà personali inedite nella nostra storia repubblicana. Tanto è vero che si è acceso anche un aspro dibattito su questo tema, sulle forme, sulle misure adottate da presunti governi, libertici per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Ma mentre stiamo riflettendo su questi aspetti e spero di essere acceso un aspro, duro dibattito con front non soltanto in Italia ma in generale società occidentale, poi ci siamo accorti a poche centinaia di chilometri da noi come la libertà può essere veramente messa in la Russia e l'Ucraina. Ecco io ho cominciato a riflettere su questo tema della libertà in maniera più sistematica, proprio in quel periodo in cui ci sentivamo defraudati della nostra libertà a causa delle misure che erano state adottate per ridurre il contagio. E credo che tutti noi in quel periodo, soprattutto nel periodo delle fasi dell'emergenza più dura, abbiamo vissuto con disagio quelle limitazioni della libertà. E però prima ancora che esplodesse poi il conflitto in Ucraina, io avvertivo come ci fosse una sorta di sfasatura rispetto al fatto che poi invece se soltanto avessimo prestato attenzione avremmo potuto sentire le grida o i sussurri degli oppressi. Perché guardate, lo ricordava poco fa Francesca Nodari, oggi soltanto il 20 per cento della popolazione del mondo gode di una piena libertà. Cioè la libertà oggi è un fatto assolutamente minoritario nel mondo. E questo 20 per cento che è un dato medio a livello mondiale, beh si riduce ad esempio al 7 per cento in Africa, al 5 per cento in Asia, al 4 per cento nel Medio Oriente e si annulla allo 0 per cento nell'Eurasia, cioè quella regione che ricomprende paesi come la Russia, la Bielorussia, le ex repubbliche sovietiche centroasiatiche. Cioè in quei paesi lo 0 per cento della popolazione gode di una piena libertà, cioè di un pieno riconoscimento dei diritti civili e delle libertà politiche. ma la cosa più interessante dal punto di vista dell'analisi è la tendenza. Cioè noi spontaneamente potremmo pensare che negli ultimi anni sia aumentata la quota della popolazione del mondo libera. Beh è esattamente il contrario. Le cose peggiorano anziché migliorare. Quel venti per cento a cui ho fatto riferimento, che è il dato riferito all'ultimo anno, è il dato più basso che abbiamo registrato negli ultimi quindici anni. Cioè ogni anno il numero dei paesi che garantiscono il rispetto delle libertà fondamentali è più basso del numero dei paesi invece che non garantiscono il rispetto dei diritti civili e delle libertà politiche. Quella quota di popolazione libera diminuisce nel tempo. Ed è una tendenza sulla quale dobbiamo interrogarci. Come mai sta avvenendo tutto questo? Perché il mondo brucia da questo punto di vista. Perché la libertà riguarda soltanto una frazione minoritaria della popolazione del pianeta che tra l'altro diminuisce nel tempo. Abbiamo cioè la sensazione che la libertà sia diventato qualcosa, la nostra libertà, la libertà delle moderne democrazie occidentali sia diventato qualcosa di meno appetibile, meno attraente agli occhi di chi ci guarda da lontano. E aggiungo che anche dalla nostra stessa parte del mondo qualcuno ha cominciato a farsi qualche domanda scomoda, a mostrare qualche forma di scetticismo. Se ci pensate, l'assalto a Capitol Hill dello scorso anno, il tempio inviolabile delle moderne democrazie liberale, è stata una plastica riprova di questo per quanto riguarda la nostra parte del mondo. Ma dicevo anche che sembra che la libertà, il nostro modello delle moderne democrazie liberali sia diventato meno attraente agli occhi di chi ci guarda da lontano. Beh, facciamo un esempio. Prendiamo in considerazione un paese come la Cina. Parliamo spesso della Cina. Beh, la Cina è un paese che negli ultimi trent'anni ha compiuto dei progressi economici e sociali straordinari. Negli ultimi trent'anni il PIL della Cina ha aumentato di quattordici volte. Ma a questa crescita impetuosa dell'economia si è coniugata una altrettanto straordinaria parabola di progressi sociali. Pensate che trent'anni fa due terzi della popolazione cinese era in miseria, viveva sotto la soglia internazionale della pubertà. Oggi in Cina i poveri sono soltanto lo 0,5%. In un arco di tempo brevissimo, trent'anni, da due terzi della popolazione povera a soltanto lo 0,5%. Hanno drasticamente ridotto il tasso di mortalità infantile. 42 ogni millenati trent'anni fa, 7 ogni millenati oggi. L'aspettativa di vita alla nascita è aumentata da 69 a 77 anni. Il tasso di iscrizione all'università in trent'anni è balzato dal 3% al 58% dei giovani che concludono gli studi superiori. Per inciso è un tasso più alto di quello che registriamo in Italia. E con l'accesso di massa ai consumi anche in quel paese si è stratificata una solida classe media, più sana, più longeva, più istruita, più benestante. Ma la Cina è un paese, è un regime autoritario e illiberale. Allora uno può domandarsi ma a cosa serve la libertà se una società può stare meglio anche senza essere libera. Questi dati che ho riassunto della Cina testimoniano una straordinaria crescita economica e uno straordinario miglioramento delle condizioni sociali in un arco di tempo molto circoscritto, soltanto trent'anni. E questo è avvenuto in un regime autoritario e illiberale. Questo dimostra che la crescita economica e il miglioramento delle condizioni sociali non sono necessariamente correlate a un maggiore grado di libertà. E allora dicevo il nostro modello di libertà diventa meno attrattivo agli occhi di chi ci guarda da lontano, visto l'esempio cinese. L'esempio cinese può rappresentare anzi un paradigma alternativo che può risultare molto attraente da parte di potenziali emulatori sparsi per il mondo. Ma guardate, in questo momento anche in Europa ci sono due paesi membri dell'Unione Europea, la Polonia e l'Ungheria, che sono formalmente sottoposte a procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per il mancato rispetto dello Stato di diritto. E questo avviene in due paesi membri dell'Unione Europea, dove, non a caso, nel discorso pubblico ha cominciato a farsi strada un apparente ossimolo, il concetto di democrazie illiberali. Insomma, come la si guardi la questione, tutto sta lì a testimoniarci che la libertà, le moderne democrazie liberali sembrano in crisi, sembrano meno attraenti, sembrano mostrare la corda. E l'esempio cinese ci porta veramente a chiederci ma che cosa serve la libertà se una società può stare meglio senza essere libera. Per noi che da due secoli a questa parte avevamo ritenuto che la libertà fosse quell'elisir straordinario, imprescindibile, irrinunciabile, indispensabile al benessere individuale e a garantire la prosperità, le fortune dei popoli. E questo, su questa convinzione, da due secoli a questa parte, si basa il modello delle civiltà liberali. Cioè che la libertà fosse l'elisir, quel valore universale non negoziabile e irrinunciabile. E oggi questo tipo di argomento viene messo in discussione. Quando si era radicata nella nostra cultura questa convinzione che oggi appare è in crisi. Perché noi potremmo collocare in un momento preciso dello sviluppo del pensiero e delle idee la convinzione che la libertà fosse questo valore universale non negoziabile e irrinunciabile. lo possiamo collocare in un momento preciso. Se pensate alla rivoluzione francese da più di due secoli sostanzialmente è lì che possiamo collocarlo la nascita di questo pensiero. Ed è un'evoluzione che ha attraversato tutto lo sviluppo della civiltà umana. Perché noi, uomini e donne, il genere umano, l'umanità, è sin dagli inizi che si interroga sul tema della libertà. Su che cosa significa essere liberi. Ma c'è un momento preciso in cui noi definiamo il concetto moderno borghese di libertà che è sostanzialmente dalla rivoluzione francese e nell'elaborazione filosofica che ne fece Hegel, di cui parlerò fra poco. Ma è dall'inizio e dagli albori della civiltà che ci interroghiamo sul significato della libertà. Se ci pensiamo bene, tutto inizia addirittura nel mito, con la figura di Prometeo. Prometeo ruba il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini. E per questo gesto subisce la punizione di Zeus, che lo fa incatenare a una roccia ai confini del mondo, nudo, esposto alle intemperie, con un'aquila che gli squarcia il petto e che ritorna ogni giorno per divorargli il fegato, che gli ricresce durante la notte. Prometeo è il simbolo, in qualche modo, della ribellione all'autorità. Un giovane Marx, uno che di rivoluzione se ne intendeva, diceva che Prometeo era il più grande santo e martire nel calendario filosofico. Il primo grande eroe nella lotta per l'emancipazione degli uomini. Perché, appunto, Prometeo ruba il fuoco agli dèi e lo dona agli uomini. E con questo gli dona la conoscenza. Ma quando gli uomini sono in grado di sapere, grazie al fuoco donato da Prometeo, poi la prima cosa che sanno è il dolore e la morte. Tutt'altro che libertà, quasi una condanna. E lì cominciamo a interrogarci su come liberarci da questa condanna, il dolore e la morte. E tutti i grandi pensatori da quel momento in poi si sono confrontati con questo tema. Intanto c'è venuto all'inizio in soccorso, ne citò alcuni, c'è venuto in soccorso, tra i grandi pensatori che voglio citare, Epicuro. Il quale, tra l'altro il significato in greco antico del suo nome è proprio questo, compagno, alleato, soccorritore. Il quale pretende di liberarci da questa tormentosa domanda con una logica implacabile. Cioè sostenendo che se sopraggiunge la morte non ci siamo più noi in vita per dolercene. E che quindi non dobbiamo occuparci di questi problemi. L'unica cosa che dobbiamo cercare è il piacere. Pensava di Epicuro risolverla in questi termini. Poi più avanti Lucrezio, che si professava Epicuro, in realtà comincia ad avere dei dubbi, a dubitare di questa logica implacabile. Perché lui vede la fragilità degli esseri umani. Ed è celebre la sua metafora della condizione umana, come quella di un naufrago gettato sulle rive del mare, solo, che può soltanto farsi sentire con i suoi vagiti disperati, come un bambino strappato alla madre. Vagiti disperati che fanno presagire i mille mali futuri a cui andrà incontro. La concezione quindi di Lucrezio era assolutamente pessimistica. Sostanzialmente, dice Lucrezio, la nostra è una natura di schiavi, altro che libertà. Però c'è stato uno schiavo, uno schiavo per antonomasia, un gladiatore, Spartaco, che si è ribellato alla schiavitù. Siamo più o meno alla fine del mondo antico, Spartaco ritiene insopportabile la sua condizione priva di libertà e si mette alla testa dell'insurrezione dei gladiatori, che daranno del filo da torcere addirittura a Roma, l'emblema del potere. E quindi ai primi pochi ribelli si aggiungono centinaia, migliaia di schiavi liberati lungo la penisola. Ed è una lunga scia di sangue. Si danno ogni sorta di violenza, saccheggiano i villaggi, perché Spartaco è accetato dalla sede di vendetta. Lui vuole andare a Roma e far lottare i patrizi nell'arena, con i gladiatori, quelli veri, a godersi lo spettacolo seduti sugli spalti. Sappiamo come andò a finire. Vennero trucidati a migliaia dalle legioni di Crasso inviate dal Senato e crocifissi sulla via Appia tra Capo e Roma, come monido del potere a futura memoria. Non c'era libertà nell'antichità. Ma la tradizione cristiana, alla fine del mondo antico, ci dà la speranza della ridenzione. Lì c'è un passaggio, un salto epocale. C'è un piccolo problema però, che la libertà, quella speranza, ci consegna una libertà riposta in un al di là, ultraterreno, mentre qui sulla terra la vita continua a essere asservita al peccato e ai tiranni. La libertà è trascendente. Il punto è questo, che se la libertà è riposta nell'al di là, allora c'è bisogno di una rivolta metafisica. È quello che succederà con il pensiero moderno. È quello, sostanzialmente, che succede con Cartesio, che di fatto inaugura la filosofia moderna, con il suo cogito ergo sum, come essere liberi se non siamo liberi di pensare. Sostanzialmente, con Cartesio si afferma il metodo scientifico per liberarci dalle false credenze, dalle dottrine dogmatiche, dalle credenze magiche. È un modo, appunto, per rivoltarsi dal punto di vista metafisico. Naturalmente le opere di Cartesio vengono messe all'indice dal santo ufficio, ma la rivoluzione della modernità è cominciata e sarà inarrestabile. E saranno gli illuministi, dopo Cartesio, a stabilire un principio nuovo, la ragione, per liberarci da ogni dottrina dogmatica, per liberarci dal dogmatismo metafisico. La ragione diventa, il dispositivo critico della ragione umana diventa, con gli illuministi francesi, con Kant in Germania, diventa lo strumento fondamentale con cui noi possiamo liberarci dalle false credenze che ci riducono in cattività e costruire la nostra libertà. Abbiamo capito, con gli illuministi, che non può esserci libertà senza verità. Beh, a quel punto, di lì a poco, scoppia la rivoluzione francese. Avendo sul piano delle idee, sul piano del pensiero acquisito questa consapevolezza, è inevitabile che questo poi si traduca nella prassi. E scoppia la rivoluzione francese, per spezzare le catene del disputismo dell'antico regime. Naturalmente, nella storia ce n'erano stati tanti di tirannicidi. Pensiamo alla morte di Giulio Cesare per le 23 pugnalate inferte dai congiurati che vogliono abbattere la dittatura. Ma gli illuministi, con la rivoluzione francese, aspirano a un livello più sublime. Cioè, non solo il tirannicidio, la morte del re sul patibolo, ma il decidio. Cioè, si vuole imporre la giustizia terrena sulla grazia divina. Si afferma, cioè, il diritto naturale, non il diritto divino. Il diritto naturale secondo il quale ogni essere umano ha una dignità in quanto essere umano. Siamo tutti liberi. Siamo tutti cittadini. La rivoluzione francese inaugura, non solo dal punto di vista del pensiero, ma anche politicamente, la modernità. Anche perché, dopo la rivoluzione francese, come in ogni rivoluzione, viene il momento delle epurazioni. Il terrore giacobino. Decine di migliaia di teste tagliate. La ragione diventa ragione di Stato. Alla fine anche la testa di Robespierre, detto l'incorruttibile, rotola in una cesta, in una piazza di Parigi. Ma è a quel punto che compare Napoleone. Napoleone vuole esportare in tutto il mondo, cioè in tutta Europa, il nuovo pensiero, il nuovo diritto, il codice civile. Napoleone, che era di origini tutt'altro che nobili, sembra dire al popolo, guardate me, fate come me, chiunque, anche il più umile, grazie al merito, può diventare un eroe. E questo è esattamente quello che ci si vuole sentir dire. Il popolo vuole l'uguaglianza delle opportunità, il diritto all'ascesa sociale. È lì che comincia a nascere la borghesia. E quello è un altro passaggio fondamentale. Non sei eroe perché è nobile, per volere divino, ma sei nobile, ma sei un eroe perché ti conquisti grazie al merito i tuoi riconoscimenti. E' quello che il popolo, dopo le barricate della rivoluzione francese, vuole sentirsi dire. E c'è un filosofo, appunto Hegel, che in quegli anni rispecchia sul piano filosofico perfettamente questo passaggio. E', diceva Marchius, il pandan filosofico della rivoluzione francese. Perché Hegel cosa dice? Hegel dice La libertà non è trascendente, è immanente. È qui, sulla Terra. L'assoluto è realizzabile nella sfera umana, nelle nostre istituzioni, nei nostri costumi. E l'assoluto si realizza nella storia, di cui noi stessi siamo gli artefici. Pensate che è rivoluzione del pensiero. La libertà è immanente ed è il fine della storia. La storia ha un fine verso il quale tende ed è la libertà. Questo è il pensiero straordinariamente rivoluzionario di Hegel. Ed è lì che, a un certo punto, nasce il progetto della modernità. E nascono le promesse della modernità. Cioè, la libertà si coniuga con la ragione. Ragione e libertà stanno insieme e si materializzano, si concretizzano nella storia, la quale, come esito dell'intelligenza collettiva, tende verso un fine. Aveva un'accezione teleologica della storia, Hegel. Tende verso un fine, la libertà dei popoli. Quindi, alla fede nella provvidenza divina, si è sostituita la fede nel progresso. Guardate, la matrice delle nostre libertà borghesi sta esattamente lì. È esattamente lì che nasce il nostro concetto di modernità liberale. Perché, quello che ho brevemente riassunto, contiene tutti gli ingredienti di cui noi siamo impastati. Il nostro immaginario collettivo ha impastato la fiducia nella promessa della ragione, la scienza, la fiducia nel merito, la fiducia che chiunque può migliorare le proprie condizioni sociali. Non per un destino dato da nobili origini o per un volere altro trascendente, ma in base a quello che noi riusciremo a meritarci. Non è esattamente il nostro concetto della modernità liberale borghese questo. Beh, guardate, nasce lì, a cavallo tra l'evoluzione francese, figlia dell'illuminismo e la sistematizzazione di questo pensiero nella filosofia di Hegel, incarnata da Napoleone, che non a caso riforma il codice giuridico in tutta Europa in base a questo concetto borghese. E poi cosa succede? Adesso facciamo un salto di due secoli. Per due secoli abbiamo basato le nostre convinzioni su questo modello, quello della civiltà, della civiltà liberale, della modernità liberale. E oggi invece, come dicevo all'inizio del mio intervento, cercando anche di dimostrarlo con alcuni dati, sembra che questa convinzione abbia cominciato a scricchiolare, sembra che sia meno appetibile, dicevo prima, da chi ci guarda da lontano, che non la guarda più come un modello, ma anzi sperimenta un archetipo alternativo, ma anche dalla nostra stessa parte del mondo, c'è sempre più insoddisfazione. Dicevo l'assalto a Capitolil come momento emblematico, dicevo il concetto di democrazie liberali che comincia a circolare nel dibattito pubblico senza più inibizioni, senza censure. Dicevo di quel dato per cui negli ultimi 15 anni, anno dopo anno, diminuiscono nel mondo il numero dei paesi liberi. Ma cosa sta succedendo? Dopo due secoli, in cui avevamo stabilito con l'illuminismo il primato della ragione, la rivoluzione francese, i tiranni tirati giù dai troni, teste tagliate del re e della regina, e poi la sistematizzazione, tutto quanto era accaduto nella filosofia di Hegel, cosa è successo? La sensazione è che questo modello, questo progetto della modernità liberale abbia cominciato a scricchiolare. Non a caso, proprio dall'inizio degli anni 2000, dicevo soprattutto negli ultimi 15 anni, la curva si è abbassata. Abbiamo avuto l'esempio cinese che ha sconfessato la nostra equazione più libertà uguale, maggiore crescita economica e maggiore miglioramento delle condizioni sociali, e abbiamo delle società occidentali sempre più insoddisfatte, sempre più inquiete, delle società occidentali che avvertono il tradimento di quelle promesse, il tradimento delle promesse della modernità razionale e liberale. Ci sono molte tracce che possiamo mettere in fila, che ci testimoniano una crescente presa di distanza nelle società occidentali dal discorso razionale. uno scetticismo crescente verso gli strumenti della ragione, scetticismo verso la scienza, verso la medicina, verso i farmaci, e allo stesso tempo una maggiore permeabilità, una maggiore permeabilità a credere a teorie cospirative, pregiudizi antiscientifici, credenze premoderne, tra chi crede che la terra sia piatta e che l'uomo non sia mai sbarcato sulla luna. Cioè c'è una porzione minoritaria, ma crescente, delle società occidentali, perché questo non è un problema che riguarda soltanto la società italiana, che prendono le distanze dagli strumenti della ragione, ovvero dalla ragione, lo strumento che negli ultimi due secoli abbiamo maggiormente utilizzato per accrescere il nostro benessere. Se pensate all'allungamento dell'aspettativa di vita, cos'è se non l'effetto delle scoperte scientifiche, della produzione di farmaci più efficaci, dei progressi della chirurgia? È la ragione, lo strumento con cui ci siamo difesi dall'incertezza dell'ignoto, dai rischi esistenziali, a cominciare dai rischi biologici, a cominciare dai rischi biologici come le malattie. Eppure oggi c'è una quota crescente di popolazione che prende le distanze con scetticismo da quegli strumenti con cui sostanzialmente nell'ultimo mezzo secolo abbiamo praticamente raddoppiato la speranza di vita in Italia dal dopoguerra ad oggi. Come anche c'è un maggiore scetticismo rispetto agli altri strumenti della ragione che sono un tutt'uno con il progetto della modernità liberale. Pensate alla crescita dell'astenzionismo elettorale. Ricordavo poco fa come nell'ultima elezione amministrativa a Roma al secondo turno per l'elezione del sindaco in alcuni municipi, in alcuni quartieri sono andati a votare soltanto il 30% degli elettori. Eppure il meccanismo elettorale è il cardine razionale di quella modernità liberale a cui facevo riferimento. Come anche pensate alla facilità con cui siamo esposti a credere veramente alle teorie cospirative le più stravaganti. Alcuni dicono è colpa delle tecnologie digitali è colpa dei social network che alimentano la diffusione delle fake news ma guardate sì, ci sono degli aspetti di tecnicalità che hanno a che vedere in maniera intrinseca con i dispositivi digitali che utilizziamo ma guardate questo non succederebbe se non ci fosse una grande permeabilità sociale a prendere le distanze dal discorso nazionale. E questa permeabilità sociale dipende dal fatto che sempre più persone avvertono è come dicevo il tradimento di quelle promesse della ragione e del progetto della modernità razionale. Cioè sempre più questo modello non riesce a soddisfare pienamente le aspettative sociali e individuali legittime in quanto alimentate dalla stessa realtà razionale. Faccio un esempio molto concreto per spiegarmi. uno dei pilastri del progetto della modernità liberale dicevo prima il merito certo e coniugato con il merito era l'istruzione. la promessa del progetto della modernità liberale consisteva in questo studia accresci le tue competenze e i tuoi saperi. Questo è il modo razionale per crearti poi le migliori condizioni di benessere sociale ovvero studia e scalerai i gradini dell'architettura sociale fino a migliorare le tue condizioni economiche reddituali occupazionali sociali esistenziali ed è così è stato effettivamente così questo è stato il principale meccanismo di emancipazione sociale l'accrescimento dei propri titoli di studio dei propri livelli di istruzione ma oggi è ancora così oggi abbiamo una parte di giovani che disinvestono completamente negli studi perché pensano e hanno capito che quell'investimento di tempo e di denaro non gli darà indietro un rendimento adeguato e dall'altra abbiamo invece un'altra porzione di giovani che continuano a stratificare titoli di studio nel proprio curriculum la laurea il dottorato un master di primo livello un master di secondo livello una scuola di specializzazione le lingue straniere senza che poi questo si traduca realmente nella possibilità di migliorare le proprie condizioni e di dare piena soddisfazione alle proprie legittime aspettative esistenziali questo è un esempio molto concreto che dimostra come quel progetto abbia ormai cominciato a scricchiolare siamo cioè entrati noi moderne mature società occidentali liberali in quello che io chiamo il ciclo dei rendimenti decrescenti degli investimenti sociali cioè l'investimento sociale che sia pubblico o privato ad esempio nell'istruzione non ti dà più indietro quel rendimento che una volta invece era assicurato crescita del PIL dell'Italia cumulata nel decennio degli anni 60 più 76% negli anni 70 più 36% negli anni 80 più 22% negli anni 90 più 13% nel primo decennio degli anni 2000 più 1,4% nel secondo decennio più 0,9% siamo passati dal più 76% degli anni 60 in un decennio allo più 0,9% nell'ultimo decennio questo è tradutto in termini quantitativi quello che ho provato ad argomentare che cosa è successo? perché c'è stata questa dinamica appunto da questa crescita più 76% poi più 36 più 22 più 13 più 1,4 più 0,9 perché abbiamo avuto questa dinamica della nostra economia? perché siamo entrati in questo ciclo dei rendimenti decrescenti degli investimenti sociali tanto che sempre più porzioni di società sentono deluse le proprie aspettative e sentono che quelle promesse della libertà del progetto della modernità liberale non vengono soddisfatte al punto tale da prendere le distanze dal discorso razionale da poter essere scettici rispetto alla ragione addirittura da poter sentirsi seduti da un concetto nuovo le democrazie liberali al punto da guardare la Cina che ti dimostra che non serve la libertà per crescere economicamente e per migliorare dal punto di vista sociale perché è successo tutto questo? il punto è che quello che è successo in questi ultimi 30 anni detto con una battuta è che il baricentro del mondo si sta spostando dall'Atlantico al Pacifico 30 anni fa il 64% del PIL del mondo della ricchezza del pianeta era riferibile a uno sparuto numero di economie avanzate il 36% era prodotto da quelli che chiamiamo paesi in via di sviluppo e mercati emergenti 30 anni dopo nell'ultimo anno alle economie avanzate è attribuibile soltanto il 42% della ricchezza del mondo più della metà il 58% è riferibile a quelli che ancora chiamiamo paesi in via di sviluppo e mercati emergenti quanti sanno che il PIL dell'Indonesia un paese che molti di noi avrebbero difficoltà a collogare esattamente sul mappamondo nel 2012 ha superato il PIL dell'Italia questo è quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni ed è questo che ha messo in discussione la fiducia nel progetto della modernità liberale guardate al di là di come voi la pensiate Trump il precedente presidente degli Stati Uniti è stato un formidabile interprete di quello che stava accadendo quando lui diceva nel suo slogan make America greet again in cui la parola chiave è again lui diceva facciami in modo che l'America torni ad essere un grande paese come se non lo fosse più o fosse sotto la minaccia di non esserlo più interpretava la paura delle classi medie americane che si sentivano minacciate dai sceti media emergenti dall'altra parte del mondo ed è interessante come Trump apparteneva a quel partito repubblicano liberale e liberista a cui apparteneva anche Ronald Reagan partito repubblicano che più di 30 anni prima di lui dalla porta di Brandeburgo a Berlino invitava Gorbachev ad abbatterlo quel muro il muro di Berlino e ad aprire le economie dei paesi socialisti al resto del mondo fu quello che effettivamente accade e da lì sono partiti i 30 anni di globalizzazione accelerata e dopo 30 anni Trump lo ricordiamo come l'uomo dei dazzi contro la Cina è con Trump che abbiamo cominciato a parlare di una seconda guerra fredda ecco in questa parabola di due esponenti dello stesso partito repubblicano liberale e liberista beh in queste posizioni diametralmente opposte uno che diceva batti quel muro l'altro che i muri invece li ha voluti rialzare beh in questa parabola è descritto in maniera molto sintetica quello che è avvenuto in questi ultimi 30 anni e che oggi rappresenta una sfida allo stesso concetto di libertà al quale siamo stati così pervicacemente affezionati e che oggi è messo in discussione perché noi parliamo sempre di un minaccia che proviene dalla Cina come per la sua per una competizione per il primato economico tecnologico militare ma guardate che la sfida più profonda e radicale è sul terreno dei valori è il tema della appetibilità della libertà che sarà messo in discussione nei prossimi anni il tema con cui le società aperte dell'occidente dovranno più confrontarsi nei prossimi anni sarà quello della libertà come valore dicevo l'elisir imprescindibile come valore indispensabile non negoziabile sarà su quel terreno che avverrà lo scontro più duro e già come dicevo il fatto che anno dopo anno aumentano i paesi liberali e diminuiscono quelli che garantiscono la libertà è un sintomo di questo che sta succedendo sapete nel 2005 15 anni fa il 69% del PIL del mondo della ricchezza del pianeta era realizzato da paesi liberi 15 anni dopo soltanto il 48% meno della metà è quello che sta accadendo ed è interessante notare a me ha colpito un'affermazione di qualche settimana fa era aprile in realtà di Janet Yellen che è la sottosegretaria al tesoro degli Stati Uniti amministrazione democratica non repubblicana ma la questione cambia di poco lei ha parlato la interroga su quale sarebbe stato il destino della globalizzazione dopo la guerra in Ucraina e lei ha parlato coniando un neologismo di Fred Shoring cioè lei dice noi andremo verso un futuro in cui dovremo limitare le catene globali del valore gli scambi internazionali soltanto dentro un perimetro costituito da paesi che condividono con noi i nostri stessi valori a cominciare naturalmente dalla libertà e dalla democrazia e cos'è questo se non un modo più garbato di parlare di seconda guerra fredda e questa volta lo fa un esponente di un'amministrazione democratica prima l'aveva fatto Trump di un'amministrazione repubblicana come a dire a prescindere dall'orientamento politico a cosa serve allora la libertà c'è un terzo modello che potremmo tirare in ballo c'è il nostro tradizionale modello di civiltà liberale che dura da due secoli a questa parte ma che oggi è in evidente crisi c'è un archetipo alternativo quello del regime autoritario e liberale cinese del capitalismo politico della Cina post comunista che però garantisce crescita economica e benessere sociale c'è un terzo modello e pezzo in particolare era la Russia la Russia è il paese più esteso al mondo pensate che è attraversato da 11 fusi orari è un paese che è ricco di risorse naturali nel proprio sottosuolo come sappiamo cominciare da gas e petrolio ed è un paese autoritario e liberale in cui non sono garantite le libertà politiche e diritti civili ma il pil della Russia l'economia russa pur essendo il paese più esteso del mondo pur avendo risorse nel proprio sottosuolo gas e petrolio il pil della Russia è inferiore al pil dell'Italia è meno della metà del pil tedesco il pil pro capite di un russo è inferiore al pil pro capite di un rumeno e allora questo è un caso in cui un popolo quello russo non ha né la prospettiva della libertà né il risarcimento tra virgolette del benessere economico e sociale se non hai né la prospettiva della libertà né il risarcimento di un benessere economico e sociale non si può fare altro che iniettare nell'immaginario collettivo un'idea quella del primato supposto primato egemonico del popolo russo quel destino da nazionalismo imperialista che è esattamente quello che sta succedendo che sono esattamente le condizioni poi per rimettere in moto la storia che è quello che sta succedendo Hegel diceva la storia è un mattatoio è un banco di macellaio lo stiamo constatando in questi mesi guardando al conflitto in Ucraina ma allo stesso tempo lui era convinto come dicevo che la storia avesse un fine la libertà oggi noi siamo vacilliamo nell'incertezza rispetto a questa convinzione come dicevo il nostro progetto della modernità liberale che scricchiola il modello alternativo cinese e quest'altro modello quello della Russia che è un come dire fertilizzare un immaginario collettivo al punto tale da giustificare la violenza sanguinaria affinché quel presunto destino deprimato imperialista del popolo russo si affermi che forse è il caso peggiore concludo soltanto poi rispetto a questi grandi temi epocali che attraversano la società in questa fase storica concludo soltanto ricordando qualcosa che poi ciascuno di noi può fare rispetto a questi grandi temi il punto ci sono molte di queste questioni di queste grandi questioni che noi non possiamo su cui ciascuno di noi si sente molto piccolo li sente molto distanti quasi impossibili da fronteggiare però ricordiamoci sempre una cosa in fondo veramente concludo e vi ringrazio dell'attenzione in tutte le cose che vi ho raccontato cosa ho raccontato ho raccontato di una serie infinita di rivoluzioni che nella storia della civiltà umana sono state compiute in nome della libertà da prometeo ricordavo fino ai nostri giorni ecco ciascuno di noi dovrebbe cercare di recuperare il senso il significato della originario della parola latina rivoluzio che significa fare una rivoluzione in nome della libertà rivoluzione in latino significa ritorno infatti se ci pensate bene in geometria la rivoluzione è il moto di rotazione intorno ad un asse immobile o in astronomia la rivoluzione è il movimento di un corpo celeste intorno al suo centro di gravitazione come la rivoluzione della terra intorno al sole o quella la rivoluzione della luna intorno alla terra ecco qual è la rivoluzione in questo senso di ritorno che noi dobbiamo compiere in nome della libertà che ciascuno di noi nel proprio piccolo può compiere rivoluzione significa ritorno cos'è se non un ritorno a quello che noi siamo nel senso più autentico ecco questo che ciascuno di noi può fare ritornare a ciò che noi siamo nel senso più autentico ovvero quello che ancora non siamo diceva Nietzsche come sottotitolo di Ecce Homo delle sue opere più belle come si diventa ciò che si è ecco la nostra rivoluzione in nome della libertà significa ritornare a quello che siamo nel senso più autentico cioè quello che non siamo ancora diventati questo è il punto e qui la parola chiave è non quello che non siamo ancora diventati perché noi spesso ci lamentiamo ci disperiamo frustrati per quello che non siamo per quello che non abbiamo ciascuno di noi si lamenta per quello che non è per quello che non ha perché noi siamo in grado di pensarlo quel non quello che non siamo quello che non abbiamo e questo naturalmente significa una vera dannazione il motivo per cui ci lamentiamo in continuazione siamo frustrati siamo di cattivo umore ma valutiamo un altro aspetto del non perché quello che non siamo quello che non abbiamo ci dice che noi viviamo nel dominio della possibilità di quello che non si è ancora realizzato e questo è una promessa straordinaria formidabile che ciascuno può e deve fare a se stesso allora ecco il nostro piccolo cosa possiamo fare come esercizio di rivoluzione in nome della libertà cercare in quel non quello che non siamo quello che non abbiamo un ritorno a quel senso autentico di noi stessi senza più costruirci alibi o falsi pretesti e questo è nel nostro piccolo io ne sono convinto un modo per concederci la libertà grazie per la vostra paziente attenzione e credo che questo applauso dica quanto sia stata apprezzata questa bellissima relazione appassionata intensa del professore Valeri a cui volentieri consegno questo cadore del consorzio Franciacorta augurandogli tanta tanta felicità e a tutti noi di fare ritorno a ciò che non abbiamo a ciò che non siamo insomma alle nostre radici quindi ci ha regalato una visione molto chiara sul nostro presente ma ci ha regalato anche una direzione ci ha indicato una direzione e credo che questo sia molto importante sia importante poi ciascuno di noi a partire dalla propria coscienza deciderà cosa fare ma quello che ha detto stasera è stato davvero molto importante per noi e per questo la ringraziamo molto visto il caldo lascerei lo spazio anche vista l'importanza del relatore al firma coppie e mentre ringrazio ancora l'amministrazione comunale di Castagnato per averci accolto e per averci ospitato ringrazio questo pubblico così attento e paziente che sopporta anche questo caldo torrido di questa estate che ci ricorderemo credo ricordo che il nostro festival prosegue domani torniamo in fondazione torniamo a Villa Chiara si terrà è prevista una serata molto importante perché è una serata che vuole ancora una volta senza mai stancarsi dire basta alla violenza contro le donne c'è un parterre di relatrici in collegamento e in presenza di grande rispetto l'unica figura che in questo momento di cui non possiamo garantire la presenza è quella dell'attuale ministro delle pari opportunità Bonetti per le ovvie ragioni che conosciamo tutti politiche ringrazio quindi tutti e invito ad unirsi a noi a questa quest'altra serata così importante in cui vogliamo rimarcare questa segnare il passo su una ferita che purtroppo continua ad insanguinare il nostro paese diciamolo oppure anche la nostra provincia proprio per questo riteniamo che non sia sufficiente dire basta il 25 di novembre l'8 marzo forse lo si dovrebbe fare tutti i giorni o tutte le volte in cui si può stare insieme ritrovarsi l'uno con l'altro fare comunità grazie a tutti e buona serata grazie